Qual è l'errore che assolutamente non dobbiamo commettere per evitare che l'estate 2021 sia la replica dell'estate trascorsa? Guardi, premetto che non ritengo che avremo un'autunno replica di quello dell'anno scorso. Credo che sia legittimo pensare che la vaccinazione estesa non ci metta più nelle condizioni di dover dipendere dal virus essendo costretti a ripristinare un'ulteriore volta i reparti, cannibalizzare certi reparti per aprire i reparti Covid, fare questo tipo di cose. E soprattutto non avremo la quantità purtroppo di decessi di malati gravi che abbiamo avuto negli anni precedenti. Però dobbiamo stare attenti a non continuare a rimescolare le carte e dobbiamo anche tenere molto bene in testa che abbiamo una situazione mondiale che vede il virus presente più o meno dappertutto e più o meno intensamente dappertutto. E quindi il rimescolamento delle carte rappresenta dei rischi per la presenza e per la selezione di ulteriori varianti che francamente saremmo felicissimi di non avere per i piedi. Quindi questa è la valutazione da fare e è una valutazione da fare, credo, insomma ci ho pensato a lungo e ho cercato anche di farmi digerire quello che difficilmente avrei accettato di digerire in altre situazioni. Volete aprire le discoteche? Fatelo, ma con tutti i paletti del caso, in modo che servano anche come strumento educativo, se posso dire, per cercare di dare un messaggio opposto a quello del liberi tutti fate quel che vi pare, anche perché altrimenti se non lo fai così finisce che le persone, alcuni almeno, lo fanno a casa loro. messaggio molto chiaro e tra poco interpello chi...